Buongiorno a tutti, eccoci qua stamattina in compagnia di mio figlio Vincenzo che assieme stiamo realizzando, come ho detto nell'ultima diretta, il mio CD che spero uscirà prestissimo in tutti i negozi. Saluta Vincenzo a tutti quanti, lui sta curando tutte le chitarre, diciamo anche degli arrangiamenti perché è diventato un monstro musicale, si può dirgli che sono a 30 anni del settore, credo che è davvero bravo, mi sto affidando a lui oltre alle tante collaborazioni che presto entrano a far parte di questo mio lavoro, non so ancora il titolo, non so ancora come sarà chiamato, nell'etichetta discografica, anzi chi è interessato può contattarmi per eventuale accordo, per eventuale, insomma, accordo tra di noi. Io per augurarvi un buon fine settimana a tutti quanti come faccio sempre, invece della diretta ho fatto un video e vi legavo anche un pezzettino di una mia nuova canzone che si chiama Ma famma vivere per te, la dedico a tutti voi, la dedico a Fabio Chianta che non vede l'ora di sentire una chicca del mio nuovo disco, Fabio Chianta è quello che si occupa delle mie pagine, io la dedico a tutti voi, questa qua mi sta venendo arrangiata da mio figlio Vincenzo Nonziante che mi sta arrangiando sto pezzo, l'ho scritto io, le chitarre sono sue, siamo, insomma, è un abbozzo dell'arrangiamento, poi ci sarà quello completo, io vi dedico un pezzettino e vi lascio con un buon fine settimana, sperando che presto uscirà questo mio nuovo lavoro perché finalmente riprendo alla grande la mia carriera canoda che ho lasciato in un momento brutto della mia vita dove avevo molti riscontri, vendevo molti cd e riprendo la mia strada, leone è ferito ma non è morto, sto cd, vai Vincenzo fai partire questa bella canzone ma fammi ripetere perché me la canticcio un po' io l'altra a cd non è fai partire questa boy, tu aspetta, e all Autobauer, tu aspetta un roles di coup d'ambgroundio non è morto, fui uggito la mostlyform, vuoi uggito le caso di qui in un'ampendio non cosa? suon Matteli, abbiamo impiegato un cielo a scendilla che mi appicciano l'anima un curaccio che non mi fa perdere quando capita che ci pensiamo chioma le parole che arriva nel cuore e poi capita che ci pensiamo che ci troviamo vicino ma fammi vivere per te fammi trasidere la vita a noi e poi capita che ci pensiamo senza avere paura ma fammi vivere per te fammi rubare da noi tutto bene da nessuno non c'è questo amore per te, per te, per te circa ma manca stai male, stai male e si vince na 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 mancano, manca tutto stiamo, aspetto, realizzandola quindi è solo una chicca per augurarvi tutti in settimana e a presto ci sarà questo mio nuovo lavoro discografico stiamo già scrivendo le canzoni stiamo già facendo gli arrangiamenti pochi mesi staremo fuori con questo grande album che parlerà esclusivamente d'amore d'amore e d'amore è napoletano tutto cantato in napoletano ma più l'italiano non ci interessa ci sta oggi cantando in italiano un bacio a tutti da Gianni Luna dal mio figlio Enzo che sta curando le chitarre e gli arrangiamenti ci vediamo presto ciao ciao